Il terzo ed ultimo grande giro di questo meraviglioso 2015 ciclistico sarà come da tradizione la Vuelta a Espana la più piccola tra le tre corse a tappe di tre settimane, la più grande per margini di crescita. Un appuntamento quello spagnolo sempre atteso dal pubblico perché la penisola iberica con i suoi percorsi è sintomo di spettacolo. La Vuelta 2015 si terrà da sabato 22 agosto a domenica 13 settembre per un totale di 3374 km e 400 metri. 39 saranno contro il tempo individuali, 7,4 saranno a cronometro con il team appresso, 6 saranno le frazioni adatte ai velocisti, 13 quelle catalogate come di media e di alta montagna. 44 saranno i gran premi della montagna complessivi e ciò spiega meglio di ogni altro dato quello che sarà la Vuelta 2015, un grande show per la conquista della Roja.